Cilento in apprezzione per l'ex sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia. Le sue condizioni di salute sono delicate e attualmente ricoverato in una clinica privata del Cilento dove si era sottoposto ad un intervento chirurgico. Aloia fino a poco fa in primissimo piano a Vallo della Lucania dove è stato primo cittadino per due consigliature e anche un cardiologo molto conosciuto nel Cilento, primario del reparto al San Luca. Su Facebook in queste ore sono diversi messaggi di incoraggiamento comparsi da parte di cittadini e di rappresentanti delle istituzioni del territorio. Una muta preghiera, quella che si legge sulla pagina del sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, indirizzata, pare evidente, proprio al suo collega. Signore mio, proteggi coloro che curano il prossimo con generosità, altruismo, partecipazione vera, ha scritto Lamaida. Signore mio, proteggi coloro che curano tutti a tal punto da trascurare se stessi. Signore mio, proteggi un medico di grande valore, amico di tutti e di ciascuno e tuo devoto servitore. E sono tante le persone che in questione stanno elogiando l'uomo, il professionista, anche chi ha avuto differenti idee sul fronte elettorale. L'attuale sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, ha fatto sua, condividendola, la riflessione di un cittadino. Un pensiero al nostro ex sindaco, c'è scritto, all'uomo e medico Tony Aloia. Tanti contrasti e dibattiti in passato su argomenti di natura politica, ma sempre con affetto reciproco e con la sfrontatezza che mi contraddistingue sfondo il muro della sua riservatezza e che arrivi a lui il mio sostegno e sicuramente di tanti altri. Forza! Nella battaglia per la salute infatti non c'è colore politico, ma solo rispetto per l'esistenza umana e ora tutta Vallo e il Cilento sono vicini all'ex primo cittadino, pregando perché si rimetta presto in sesto.